Un tuffo nella memoria che ripercorre due decenni di storia grazie alle interviste realizzate dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati tra gli anni 80 e 90. Un autentico spaccato di un periodo storico raccontato dai suoi personaggi, raccolto nei DVD prodotti da Telesud nella collana In Sicilia Rewind, da cui trae spunto lo spettacolo di Giacomo Pilati, ieri sera sul palcoscenico del Teatro Ericino, assieme a Salvo Alestra al contrabbasso, Silvio Barbara alla tromba, con le scene di Giovanna Colomba e le luci e suoni di Salvo Altesa. Questa esperienza è nata intanto con un cofanetto, con un 5 DVD che abbiamo rimasterizzato insieme a Francesco Sirobrigiano e poi da questa esperienza del cofanetto, con queste 27 interviste raccolte fra il 1985 e il 1998, è nato questo spettacolo. È uno spettacolo che mette insieme parole, musica, arte per sintetizzare quegli anni terribili ma anche dolci e pieni di significato e pieni di memoria, forse anche di nostalgia.